E salve a tutti ragazzi e benvenuti a tutti quanti su questo nuovissimo video. Ebbene sì ragazzi, un nuovo contenuto sul mio canale YouTube, stiamo parlando di Rocket League. Prima di iniziare con tutto quanto ragazzi, vi volevo ricordare che mi trovate in live streaming su Twitch tutti i giorni e trovate il link del mio canale qui sotto in descrizione. Volevo ringraziarvi a tutti quanti voi perché siamo arrivati a 300.000 iscritti su YouTube. Ce l'abbiamo fatto raga, siamo una famiglia ancora più grande. Grazie mille a tutti quanti raga, davvero un altro traguardo raggiunto. Grazie mille. E oggi andremo ad inaugurare questo traguardo con un nuovo contenuto sul mio canale YouTube. Ultimamente Rocket League è ritornato particolarmente diciamo di tendenza, se così si può dire. E io giocavo Rocket League esattamente 5 anni fa, in un lontano 2015. Quando appunto ancora il gioco lo dovevi pagare per giocarci. Infatti all'epoca lo pagai tipo 20 o 22, adesso non ricordo. Adesso sono ritornata da circa 3 giorni e proprio ieri è arrivata la nuova season di Rocket League. Devo dire ragazzi che a me come gioco mi è sempre piaciuto soprattutto da giocare in compagnia. E poi sicuramente non appena diventerò un po' più forte, perché lo ammetto io stessa ancora, non sono forte. Perché comunque l'ultima volta che l'ho giocato erano appunto 5 anni fa. Seconda cosa, non gioco mai da controller, perché come sapete io gioco solo da PC, quindi mossa e tastiera. E quindi anche ritrovarmi insomma da controller ovviamente mi trovo un po' spaisata. Ma comunque raga, è arrivata la nuova season, stiamo parlando della stagione numero 2. Ovviamente il Battle Pass già l'ho acquistato e l'ho acquistato ieri in live. Ecco perché vi dico appunto ragazzi di seguirmi in live, così che potete vedere già tutto in anteprima. Dove comunque io gioco, gioco anche con chi mi segue. Ma comunque è uscita questa nuova macchinina, che sarebbe la R3MX. Quindi per esempio si pronuncia 3MX. Che è molto molto bella, veramente molto molto bella. Ho avuto già modo di testarla e vi posso dire che è molto 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 buona. Poi abbiamo questa antennina, insomma va bene, molto molto normale. Abbiamo questo propulsore molto figo. Abbiamo qua il furgoncino per vendere i gelati, non lo so, le angurie, qualcosa. Poi abbiamo questo altro adesivo per questa macchina nuova, che mamma mia ragazzi è veramente bella. Poi abbiamo queste gomme, questi cerchi che sono davvero molto molto fighi, molto grandi e molto colorati. Questo propulsore è una gran ficata assurda. Questi sono veramente fighi. Ecco, questa vernice è assolutamente spaziale. Io amo l'Egitto, insomma tutti questi geroglifici a me piacciono veramente tanto. Quindi questa vernice la utilizzerò sicuramente non appena la sbloccherò. Molto bella questa vernice, sembra tutta una cosa molto lunare, con le stelle. Molto molto figa, devo dire. Molto bella anche questo propulsore. Fa un casino assurdo, però molto molto carino. Chiamiamo le ruote, belle anche queste, molto colorate. Non le utilizzerei però, sono carine. No, è già finita, ma dai! Dai cavolo, fammi ballare! Bello, molto figo, questo lo voglio sbloccare subito. Mamma mia ragazzi, questa qua è bellissima. Questa penso che, anche se non è animata, penso che sia comunque l'adesivo più bello di tutti. Perché è tipo stile neon, non lo so, è veramente veramente figo. E poi abbiamo lei, abbiamo lei potenziata ragazzi. Mamma mia, mamma mia ragazzi, bellissima. E quindi niente ragazzi, prima di andare nel gameplay vi ricordo di seguirmi anche su Instagram. Trovate il link qui sotto in descrizione. E vi ricordo anche che potete utilizzare anche il codice creatore qui su Rocket League. Adesso direi ragazzi che possiamo andare in partita, ma soprattutto io spero che questo nuovo contenuto all'interno del mio canale vi possa piacere. Perché io mi sto divertendo davvero tanto a giocare a Rocket League in questi giorni, live su Twitch. E quindi ho pensato di introdurvelo anche qua su YouTube. Fatemi sapere ovviamente qui sotto nei commenti se volete altri video di Rocket League. E se vi piace questa season e questo Battle Pass. Ma adesso andiamo al gameplay. Una buona visione. Guarda, arriva Martina. Attenzione, tocca col cofanino e entra all'interno. Vai BB. No. Ho fatto un volo un po' troppo accentuato ragazzi. Mi sento che Barchetta riuscirà a difendere, incredibile. Barchetta potrebbe fare un potenziale goal. Potrebbe fare un potenziale... No! Ma io l'ho messo! Ma bella! Guarda questo, ma ma che dribbling si è preso. Guarda, guarda il sudore in me. Guarda il sudore in me. Mamma mia, come guarda il comparto. Madonna, però è un po' Goal, Goal! Madonna, ci potete la paravo io, bellissimo. Mamma mia! In volo ragazzi! Come, come Gesù. Aiui, 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 aiui. No. Martina, dove c***o si è andata? L'ho già andata. Ma dove sei andato? Dai, tira, tira, Martina. Ma dove la tiri? Ma dove la tiri? Dai, levati! Oh, c***o! Ah, vabbè, sicuramente la vedranno più minore che adulti. No! Martina, Martina! Mamma mia, Martina, se è quello schifo, veramente, farla giocare in te di verità che la papina... Ma che cavolo ho fatto? No! Io so pazzo! Agile se me posso fidati di te! Sì, ecco la che si la fa rubare. Incredibile, incredibile! Sei vicina! No! Vai, 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 vai! No, mannaggia! Attenzione, attenzione, perché no! Deve essere go, non è possibile, non è possibile! Martina la manda verso di noi, incredibile! Oh, tecla, che sto... Eh? Non mi ha usato questo. Oh! Oh! No! Numero uno! Numero uno! Numero uno! Uno! Sì, Barca, dai, magari il prossimo lo segni. Tranquilli, ragazzi! Ci sta Martina in the town! Sì, ovviamente! Guardate la replay, cosa ho fatto, per favore! No, Barca, tu stai trollando oggi! Però che ha fatto? Guarda! Ah! Ciò che ho scoperto! Attenzione! Martina, vicino alla polla! No, ma stai zitto! A me non lo dici, è chiaro? Dai, però che fa? Tocca la torre, non tocca terra! Non tocca... Eh, la fanno toccare... Oh! Bibi! Vai, vai! Non vado, non vado, non vado! Ah! Edz! Win! For us! Martina più punti di me ha fatto, eh! Sicuro! Vedi c'è! Vediamo? 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 Sì, prima! Allora, vediamo, 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 sì! Eh, Barca, carriato! Guarda! Che c'è, non hai fatto niente! Ridicolo! Ridicolo! Incredibile! Va bene, clappiamoci lì! Vai! Che... Lo conosco! Ma... Devi levarti quel cappello, comunque, Barca! Che? Ma, bellissimo! Non so perché! Gli sto bene! No, devi levarlo! Ascensione! Ok, attenzione! Qui si segna, no? Mamma mia! Va bene, va bene! Mi ha parca di levarti sto cappello! Ma perché? Perché... Sembra una cosa brutta! No, no, ma i militari, tutti i capori armaggiori, esergenti, a dire! Ce l'hanno, veramente! Ma non è così! Oh, guarda di me! Oh, mi... Oh! Hanno fatto gollo! Hanno fatto gollo, Viglia! Ancora tu, ancora tu! No, no, è auto gollo! No, hai letto tecla, ha segnato? Guarda, uno, guarda! Guarda, ha segnato da tecla! Sì, ma ha segnato da tecla! Quindi, cappolo! Tu, devi fare il gol della fascia, Martino! La tema l'aspettavo! Vedete, la macchina è uguale e perdi più rossa! Vabbè? Niente, io sono confuso! Centrale! Barca, perché nella macchina il vetro bianco? Non capisco perché quelle hanno le ruote di ottenere e le voglio anch'io! No, perché l'hai fermata, Barca? Mannaggia, la miseria! Non l'ho fermata, non l'ho proprio toccata io! Sì, vabbè, infatti! Centrale, di nuovo? Mamma mia, amore mio! Che gol! Anima insieme di Barca, che sono le palle che esplodono, comunque io... Eh, Bibi! Sì, io non voglio neanche commentare! Eh, ahhh... No, no, ma Martina non lo voglio vedere! Bacca, guarda! Hai visto cinque ore a terra! Erano otto, ma so, quei soldi! Titi, 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 titi... Eh, il gol di Martina! Più preso di Itara! Buonasera, ragazzi! Benvenuti in questo gol, ragazzi! Ho fatto così, ragazzi! E poi me ne tornano del FK! Beh, goodbye! Accendete i motori, via! Dai, però! Chi di Mila-Mila-Mua! Non è che è parata, che... Iiiiiiiiix! Dai, la verga, come se... Guarda, la verga, ma io c'è la scia viola! Il propulsore è viola, che... Ma era incredibile! Mamma mia, tu provi a pipì! Wiiiix! Mitica wiiiix! Barchettina! Fai che c***o! Vai, Bacca! Gol combinato! Are you ready? Vai! Con la volatoria! Vai, Bacca, prendila, prendila! Non ci sto io! Vabbè, però! Ha fritto! Qua no! Basta, si... Cosa? Che problema! Vabbè che avete abbandonato? Perché devo togliermi il basco. Il basco rossi? Il basco. Basilisco.